G.P. Brown News Boy parla di un ragazzino di 12 anni che durante la grande depressione americana per aiutare la mamma rimasta vedova e quindi lui è orfano di padre vendiva i giornali porta a porta un ricco dell'alto borghesia lo nota e questa canzone parla appunto del dialogo fra questo ricco che gli chiede per chi faccia quella vita e il bimbo che gli risponde e il bimbo che gli chiede 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 grazie a tutti Grazie a tutti